Eccoci, buonasera, siamo con Anna Akalai, architetto, ma soprattutto c'è la scena nazionale della Scenderotiser, l'Accadema Mondiale di Enogastronomia. Che cos'è la Scenderotiser, Anna? Beh, la Scenderotiser è un'associazione forse la più antica al mondo che c'è perché nasce nel 1200 e ci occupiamo veramente di mantenere la cultura del cibo, della buona tavola, la cultura del territorio del cibo e degli alimenti e la cosa forse più importante è quella dell'amicizia perché trovo che a tavola nascono bellissime amicizie, cioè la convivialità è molto importante. Quindi cibo, cultura della tavola, quindi cultura della buona alimentazione, no? Lei è anche socia onoraria a Ius Gustando, quindi direttamente impegnata nella tutela della sana alimentazione. Che cos'è la sana alimentazione per Anna Calai? Allora, prima di tutto per me è stato un onore essere, avere questo socio onorario di Ius Gustando, proprio un grande onore. E per me la sana alimentazione è quella che tutti i giorni ci dobbiamo proprio impegnare a cercare le cose giuste, proprio anche la cultura del territorio, del nostro cibo, cioè farci proprio forze, promotrici di prendere le cose del nostro territorio e aiutare anche i nostri agricoltori, chi lo produce, cioè cercare di portare a tavola anche l'italianità. Me lo passi? Grazie. Quindi, materia prima eccellente e controllo della filiera alimentare. Ma è vero che lei è anche un produttore alimentare che si sta dilettando nella produzione di miele? Io mi diletto solo, aiuto due giovani della Valsesia che credono in questo, in quello che è le cose naturali, tanto che il miele mi ha proprio attratto perché l'ho visto dove lo fanno, dove lo producono e i cervi sono gli abitanti di questo posto. Ah, bene. Quindi siamo in piena atmosfera natalizia. Un consiglio? Cosa mette a tavola Natale lei? Io sono tradizionale, molto tradizionale, per cui sicuramente non mancheranno i tortellini in brodo. Io parlo per il pranzo di Natale. Proprio sono tradizionale, per cui il cappone, tutto quello che è un lesso misto e i dolci tipici natalizi. Un po' di verdura buonissima, ma sicuramente il brodo e i tortellini. E il tocco del suo miele su che cosa? Io lo metto sul formaggio, il miele di castagno e sui dolci. Anche nello strudel, che non si dovrebbe, però invece dello zucchero uso il miele di acacia. Bene, grazie Anna Calai, buon Natale. Grazie a tutti.